ma adesso lo stampo in A3 ieri avevo finito, l'abbiamo stampato al volo così in A4 adesso domani lo stampo in A3 ma per 6 vabbè lo stampo io in A3 vabbè lo stampo io in A3 e' just watch his dream from the last row what we are used for our national it's like going away from your muscle a film can change film can serve even if my breath comes a film can serve in A3 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti